I fratelli musulmani, il principale gruppo egiziano dell'opposizione, non intende competere per la presidenza della Repubblica a settembre, ma non si sottrae allo sforzo di concorrere a disegnare il Dopo Mubarak. Lo ha detto ad Euronews, a margine di una partecipata manifestazione per le strade del Cairo, Mohamed El-Beltagui, dirigente dell'organizzazione. Ci è stato chiesto più volte come fratelli musulmani di mediare, ma noi lo abbiamo escluso, indicando due condizioni. La prima è che il dialogo vale solo se è collettivo e condiviso da tutti. L'altra è che i negoziati trattino il Dopo Mubarak. Messi in passato fuori legge dal regime, i fratelli musulmani sostengono oggi le richieste dei dimostranti. Non siamo contrari al dialogo. Speriamo che il confronto porti a risultati che concretizzino le aspirazioni del popolo egiziano di mettere fine a questa grave crisi. Ma l'importante nelle trattative è che esprimano veramente le rivendicazioni dei manifestanti, in modo da poterli chiedere di fare ritorno alle loro case. In questo difficile braccio di ferro, dopo le tensioni dei giorni scorsi, sta ora per aprirsi una nuova fase. Dopo il venerdì della partenza, comincia ora la settimana della resistenza, spiega il corrispondente di Euronews dal Cairo. Una fase che coincide con gli sforzi di diversi partiti per trovare una soluzione alla paralisi politica.